Tutorial come costruire una casa a poca carne e comunque questo qui è il mio secondo video su minecraft inizio a giocare comunque qua è la mia skin uno vino di ghiaccio e crea un nuovo mondo ok creativo perché voglio fare una casa poco e dopo mondo piatto ok ma vabbè ah no adesso è durato poco ok allora adesso vi mostro come si fa prima di tutto serve della lana ok il silizio provo tutto mi metto a romper qua e vabbè ma non so quanto dovrebbe essere grande mmm sì va bene pure secondo che alzo il volume ok e si inizia a costruire vabbè anche se l'ho fatta così in realtà vi faccio come fare la struttura ma scusatemi che non ho fatto tipo una casa intera lì dentro non so cosa ci può essere sì in realtà lo so però vabbè dopo dovrò fare la porta e mi serve sempre la leva e dovrò farlo su un blocco di lana la porta confondo sempre ok 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 quindi se volete lo metterò anche un po più grande però vabbè se ci vuole abito uno slime qui dentro sono intrusi in casa mia stacolo di poca carne dai al fatto di quarzo però non lo so voi faccio una torrecina però lo potete sporgere a casa ok qua è la strutturina qua ci sono i dati che consiglierai con la porta di questo cosi si mette bene per l'angolo adesso non so voi però io ci metterei spero so come si chiama e qua ci sarà ok io l'ho fatto un po piccolino però se ci vive ok aspetta un po' meglio solo questo era costruire tipo io facevo in realtà faccio una delle case nuvole faccio anche e Grazie a tutti. Grazie. Grazie. In questi casi sono solo per un lettino, tipo un pesticino, non ho sbagliato, non ho sbagliato, non ho sbagliato. Grazie. 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 queste qui erano piccole casette ok l'ultima tocca una piccola cosa ok ok la cosa è finita ho affermato il massimo proprio bruttino decisamente